Sei pronta? Si Adesso si Adesso si Allora abbiamo appena concluso il red carpet, com'è stato? Alla grande Ragazzi è stata una cosa incredibile, non vedo l'ora di postare le foto e... Adesso andiamo? Al martiii Non puoi non farti... No, no... Noi qua, che sono tutte belle senza filtro! Vieni, vieni Andrea Dai, so che puoi esserci Dai Andrea, vieni anche tu È un video, eh? Saluta, saluta a tutti Ciao, buonasera a tutti Eh, vi aspettiamo Non gli stroppi però Ci fa un camera a chi? Sono fortunatissimo, sono fortunatissimo con tutte queste donne, bellissime Ragazzi Allora siamo a Palazzina Grazzi E... Ecco Ciao amore! Adesso Direzione Spaghetto Pasta al pomodoro E dopo stasera suona Luciano ragazzi È vero È verissimo Guardate quanto sporco il mio telefono Ciao amore! Ecco ormai è casa mia Palazzina Grazzi Welcome home Ciao! Ecco la città Questa città è un vero Perciò un servizio in top quality Pasta il pomodoro Solo per noi Nella saleta privata E indovinate chi ci sta aspettando Spero che non abbia mangiato tutto Marina è finito? È rimasto qualcosa? Ho mangiato tutto Ciao Giulio Ciao 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 Buongiorno Siamo qui a Venezia Ultima giornata prima che si torna a Parigi E ora qui a fare colazione E guardate chi c'è con me Samuel Good morning Good morning Baby Good morning Going to enjoy our last breakfast Before going back to Paris Good morning Samuel Where are you going? Good morning Good morning Shooting completed It's my last day in the madness And I'll miss my girls See you next year See you next year See you guys See you guys See you next year See you So pink today So pink today This is Patricia Contreras From Venice From Venice From Venice Festival Joxanne Send me more products Because I can't wait to try them Here we are going to do Here we are in the dress We are wearing a dress from Bu Fabi as always And now After Samuel We are going to the extension to shoot with Patricia Finally and so now we are preparing another patricia for bufabi give me a smile she's like finished now we're preparing her for another shooting here in Lido she's choosing just the right dress code for patricia and I put my dress on bella super bella and also these the orecchini she is great she's doing a good job ok sir I I Wow, stupendo. Meravigliaza. Oh, thank you. Good job. It's over. Now let's go. Guys, this is a backstage. What you actually do when you say, ah, she does, and just chill out. But was it crazy? I'm proud of you. I'm proud of you. Guys, and this is the reality of every day. Make the mask in the sun while you go to a shooting, because there's no time to rest. I'm excited. Guys, in direction Lido. Ultima giornata, Venezia. Here we go. And another day in here at the Celebrity's Lounge in Venice, going to get ready for today. And let's go today with Schwarzkopf. Hello, buongiorno. I'm excited. Here's everyone. Hi. 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 I'm gonna let you go. e non lo so tagli un po' indietro grazie Ciao da venice un giorno in venice era hollywood e qui a Lidl in un'altra parte per la sede e questo è così glamouroso for what they are these pictures no allora ragazzi c'è questa che prende il granchio per mangiare e la nostra varga che sta in arrivo Hi guys I'm Matteo Mignani today the shooting with Patricia here at the Venice Team Festival See you later So we start getting ready make up artist and hair stylist is already here and I'm waiting for my dress and I'm waiting for my dress This is such a sweet attention from Cine Hotel when they send you your dress and some strawberries Well that's Well that's our star is ready We are ready to the red carpet in Venice in Venice with Campari at Phoenix Showroom Stay tuned We finally arrived This is the entrance to the festival the location is very beautiful and I will bring you inside and the important issue before to go to the red carpet is to drink some Campari of course this is the special Campari VIP bar all people are so beautiful here We are on the beach 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 Our girl is the most beautiful Yeah? or not? Well that's the question Of course Yes Red carpet It's a great feeling It's a great feeling It's a great atmosphere It's a great atmosphere It's a great atmosphere It's a great atmosphere especially when it's all happening in the first time We are very hopeful that we are not in the last and we are waiting for our girl on the red carpet we are on the next It's a great atmosphere and again con voi sono noi maia katiusha è me un saluto velocissimo per chi è stato per me questo è stato veramente un momento che ricorderò per tutta la mia vita come una delle giornate più emozionanti più da sogno che mi abbia mai vissuto e sono contentissima che voi facciate parte di questo momento spero che vi piaccia il film io ci ho dato tutta me stessa e Lisa penso che ha fatto un ottimo lavoro nel raccontarvi e voi vedetevi lo spettacolo spero vi piaccia secondo giorno come state? siamo arrivati a Venezia mi mancava questa città mi mancava il taxi boat mi mancava questa bellezza ma adesso qui con me c'è che religi di là ciao nati due volte perché una volta sola non basta noi ci arriviamo qui a Venezia guardate un po' chi c'è per religi di lallo ciao e tenetemi forte furtissimi Fabio Troiano ciao no non è che stiamo arrivati siamo già a Venezia ma quanto sei bello Fabio più o meno oggi le mie folo lo rimpazziranno proprio no 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 guardate qui che regalo che vi ho fatto oggi un bacio grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie grazie a voi potete venire ragazzi buongiorno ok grazie ok ho amato questo film ho amato essere diretta da Luigi di Lallo perché c'è stata eleganza rispetto intelligenza dall'inizio alla fine e quindi è un film che consiglio davvero di vedere tutti io mi sono emozionata non l'ho letto mi sono emozionata quando ero come se stai e non sono ancora adesso a parlarne quindi vi invito a vedere tutti a venire in sala grazie a voi 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 di Venise con questo film particolarmente, che propone una visione di un mondo molto noire, ma per poter pensare una più joyeva e optimista in modo collettivo. Quindi, ecco, sono contenta di poter parlare di questo. Savire la presenza di questa ville magnifica, essere qui, su questa plage sublime, e poi riconoscere l'ambianza di un festival, di cinese, è sempre formidabile. L'Italia è una delle protagoniste della rinascita del noir, questo anche proprio a livello internazionale, perché il genere ti consente di raccontare il tuo mondo, il mondo che vivi giornalmente, però di renderlo allo stesso tempo abbastanza intrattenitivo e interessante per un grandissimo pubblico. A presto!